ATTENZIONE ATTENZIONE! Non andare a pescare in mare nel 2023 se prima non hai visto tutto questo video. Mi raccomando perché potresti anche prendere 1000 euro di verbale. Comunque terrorismo psicologico a parte mi raccomando guarda tutto questo video perché ti spiegherò tutto quello che devi fare per andare a pescare in mare in regola al 100% nel 2023. Occhio ragazzi perché la legge non ammette ignoranza. Ciao io sono Stefano Adami e di lavoro faccio la guida di pesca quindi porto le persone a pescare. Sto in mare quasi 200 giorni l'anno, quando non sono in mare registro dei video per voi, per il mio canale YouTube. Vi registro tutorial di pesca, vi racconto un sacco di segreti che utilizzo durante le mie pescate, vi faccio vedere anche video di catture, recensioni di attrezzatura. Quindi se non siete ancora iscritti al mio canale mi raccomando qua sotto c'è un pulsante iscriviti, di fianco c'è una campanella, attivate tutte le notifiche per i miei video. È molto importante anche perché se non aveste visto questo video rischierete veramente di prendere 1000 euro di verbale, quindi valutate il fatto di iscrivervi. Ragazzi è completamente gratuito e ovviamente sosterrete un po' il canale. Come ben saprete fino alla metà dell'anno scorso noi pescatori in mare eravamo soggetti a un censimento che era obbligatorio e gratuito anche questo ma era obbligatorio tra virgolette, nel senso che non c'erano grossi decreti dietro a questo obbligo che ci è stato fatto a noi pescatori. Mentre senza che gli organi preposti ci abbiano comunicato nulla, durante l'estate dell'anno scorso è uscito un decreto per cui questo tipo di registrazione è una registrazione che ha valenze differenti rispetto alla precedente ed è obbligatoria ed è annuale e si fa con lo speed. Quindi quest'oggi, visto che nessuno ve l'ha comunicato, nessuna associazione che io conosca ha fatto pubblicità questa cosa e ha promosso questa cosa che è importante, quindi per evitare di prenderci questo verbale adesso ci mettiamo a un computer e semplicemente vi faccio vedere quello che dovete fare per pescare tranquilli per tutto il 2023. Andiamo al computer. Eccoci qua al nostro computer, per prima cosa bisogna che vi connettiate a questo sito, non vi preoccupate perché ve lo scrivo più grosso in sovraimpressione ma ve lo lascerò anche qua sotto nella descrizione del video. Non vi fate distrarre da questi menu, bensì andate in accesso area riservata, è un menu a discesa e andate in iscrizione utente. Ora, qua vi fa vedere che si può accedere sia con lo speed che con la carta d'identità che con altre credenziali. Noi oggi, a parte la carta d'identità, che è un sistema semplicissimo, analizzeremo come si fa ad entrare con lo speed. Semplicemente schiacciando Entra con speed, andatevi a ricercare il sistema con cui avete fatto lo speed. In questo caso io l'ho fatto parecchio tempo fa con le poste italiane, quindi clicco su poste italiane. Qua c'è il QR code e quant'altro per attivare. Io ho il username e la password, dovrebbero essere già giuste. Ok, voglio ricevere una notifica sulla app. Adesso mi chiederà ovviamente l'autorizzazione dal portale Sian. Ok, siamo entrati, ridiamo un'altra volta a consento. Adesso qua ci saranno un po' di dati sensibili ragazzi, non so se ve li farò vedere tutti. Ci sono tutti i dati utenti, in questo caso non c'è niente di strano, niente che non sappiate, tranne il mio codice fiscale. Ok, dichiaro di aver letto e di accettare le condizioni di dire e niente, qua dobbiamo per forza. Ed eccoci qua. Adesso l'accesso al Sian dobbiamo andare a vedere, vedete che qua c'è pesca sportiva, pescatori. Ecco, selezioniamo, mi raccomando, questo. Ovviamente qua poi per il resto non ci interessa null'altro. Dichiariamo di aver preso a visione e andiamo su prosegui. Gentile utente, suo indirizzo spirito verrà registrato su Sian con il suo recapito personale. Potrà modificarlo. Stiamo configurando la sua utenza, al prossimo login potrà accedere ai servizi che ha selezionato. Benissimo, finita tutta la trafila, saremo loggati nel sito del Ministero dell'Agricoltura e qui vedrete il vostro codice fiscale. A questo punto dovremo andare su pesca, comunicazione per la pesca sportiva. Ok, benvenuto. Andiamo a vedere la gestione delle comunicazioni. Vedete che io ho un numero di tessera, nome, cognome e la data di nascita, così sapete anche quanto è vecchio lo zio. Però vedete che qua non c'è attiva. Io ovviamente ragazzi avevo già fatto questo tipo di iscrizione anni fa quando c'è stato il primo censimento. A questo punto io dovrò semplicemente dare rinnova. Devo selezionare una licenza, che è la mia, e schiacciare rinnova. Ok, quindi è pescatore, attiva. Selezioniamo e andiamo in stampa. Questo è quello che dobbiamo fare per essere totalmente in regola al cento per cento, non prendere sanzioni. Come avete visto è completamente gratuito. L'unico problema, visto che siamo in Italia, la burocrazia è un po' complicata, quindi ci vuole. Tenetevi buono mezz'ora, 45 minuti per farlo, perché spesso non funziona il sito, spesso non funziona lo speed, spesso non funziona questo o quell'altro, però direi che adesso avete visto come funziona. Ricordatevi ragazzi che è annuale, quindi l'anno prossimo bisognerà assolutamente rifarla. E adesso magicamente torniamo all'esterno perché... vabbè, vabbè, ve lo dico dopo. Bene, abbiamo fatto questo viaggio all'interno del nuovo censimento, spero che abbiate compreso tutto. Se non avete compreso qualcosa, qua sotto ovviamente c'è la sezione commenti. Potete chiedere qualsiasi cosa e ovviamente vi risponderò. Mi raccomando, mettete un like a questo video, ma soprattutto condividetelo ragazzi. La condivisione a questo giro è veramente importante per evitare verbali ai vostri amici, ai vostri conoscenti e a chiunque possa essere interessato alla pesca in mare. Mi raccomando, iscrivetevi al canale e io come di consueto vi saluto dicendovi andate a pescare, andate a pescare, andate a pescare, ma prima fate il censimento. Ciao!